Qui al PAV la chiusura delle vacanze di Natale con Lara e siamo qui con Lara per condividere un'esperienza abbastanza particolare diciamo che è quella di essere coprotagonista della seconda puntata di Doc nelle tue mani che verrà trasmessa in prima visione alle 21.30 dell'11 gennaio di giovedì 11 gennaio quindi in seguito al primo episodio ci sarà il secondo episodio dove Lara Chiodini allieva nostra di PAV sarà presente. Lara ti va di condividere con chi ci segue qual è stata l'iter e com'è andata questa esperienza? Certo allora io ho iniziato qui al PAV a studiare recitazione circa sei anni fa ho fatto due anni di teatro poi due anni di cinema e quest'anno e l'anno scorso ho studiato sempre qua al PAV in un corso intensivo in cui abbiamo fatto recitazione teatrale cinematografica edizione voce movimento e l'anno scorso abbiamo fatto grazie alla nostra scuola un workshop con una casting director Rossella Fusco che appunto è la casting director di Doc e ha lavorato con noi con gli allievi del PAV e quando poi ha ricevuto l'incarico per il casting di Doc ha mandato dei provini all'agenzia che segue me e altri ragazzi del PAV che è Fiorella Giannelli ricordiamolo e sono arrivati questi provini io ho fatto questo self tape e sono stata presa per Doc ecco cosa ha comportato questa esperienza su di un set così importante professionale e a Roma ricordiamolo beh allora diciamo che io ho attivato tutto quello che ho imparato in questi anni qua al PAV perché comunque sono stata formata molto bene sono arrivata lì grazie molto tranquilla diciamo comunque ero agitata perché era il mio primo set però nel momento in cui ho recitato lì mi sono trovata comunque come se fossi stata in un set qua al PAV e poi comunque mi sono trovata benissimo con tutto il cast con le persone che c'erano davvero speciali mi hanno trattata molto bene e niente bene siamo molto contenti allora non vediamo l'ora di vedere giovedì la prima e la seconda puntata il primo e secondo episodio di Doc nelle tue mani appunto vi ricordo che nel secondo c'è come coprotagonista di puntata Lara che è già stata trasmessa nella puntata 2 e anche all'interno dell'anteprima con la puntata 1 nei cinema UC Cinemas il 18 e il 19 di dicembre quindi invitiamo tutti se avete la curiosità di vedere cosa porta poi questo lavoro che tipo di esperienza si può fare a guardare questa importante serie insomma non c'è bisogno del nostro invito ma noi ci prendiamo la premura e siamo molto felici di quello che è successo e ringraziamo Lara grazie mille grazie mille